Parazzo Moffa dialoga sul piano operativo 2013-2015 che i comitati a difesa della salute pubblica bocciano. Inico il trattamento dei posti letto assegnati alle strutture pubbliche e a quelle private, le sole che beneficiano del nuovo documento. Il governo decide di scommettere sull'agricoltura con il decreto campo-volo presentato stamattina dal senatore Roberto Ruta, incentivi per le imprese e per le assunzioni, previsti 25.000 nuovi posti di lavoro. Un obifraggio riporta l'inverno in tutto il Molise, strade e campi allagati, sulla costa spiagge deserte e danni all'agricoltura, attrivento paura per un fulmine caduto sul campanile della cattedrale. La pioggia non ha fermato la terza edizione del Memorial dedicato al capitano in campo, i suoi ex compagni dell'83-84, le vecchie glorie molisane e alcuni giocatori in attività che hanno affrontato i ragazzi di Farina. Presente anche il sindaco di Campobasso che è assicurato, i lavori a Selvapiana si faranno. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Molise TV, discussione oggi in Consiglio regionale sulla sanità molisana, nello specifico riflettori accesi sul piano operativo presentato a Roma e su cui dovrà esprimersi anche il tavolo massicci il prossimo 18 giugno. In aula a Palazzo Moffa torna in seduta monotematica la sanità, presenti anche il subcommissario Rosato e il direttore dell'assessorato alle politiche sanitarie e la storia. Ad aprire i lavori il governatore frattura nonché commissario ad acta. Si parte con l'illustrazione dell'integrazione al piano operativo dello scorso febbraio per arrivare a quella che oggi è la rimodulazione della rete sanitaria molisana. Del piano operativo i cui effetti sono sospesi dopo l'intervento del TAR e di cui bisogna conoscerne l'esito del tavolo massicci che dovrà esprimersi frattura nei spieghi e ritocchi. L'ottica dice quella di riequilibrare la rete sanitaria non solo ospedaliera su tutto il territorio molisano. A seguire l'assise anche i rappresentanti dei comitati a salvaguardia degli ospedali pubblici. Ci auguriamo e non crediamo che il tavolo massicci possa approvare questo piano che ancora una volta è fortemente sbilanciato sulla sanità privata. È vero che la sanità non sono solo posti letto come dice il nostro governatore però purtroppo non essendo stato attivato in nessun modo il territorio la sanità in questa regione sono posti letto. In questa proposta di piano vediamo come le risorse sono fortemente sbilanciate sul privato che detiene addirittura più del 40% dei posti letto per acuti. Quest'oggi causa maltempo, la manifestazione dei comitati è stata molto contenuta. Con questa manifestazione che cosa chiedete? Noi chiediamo che venga messa la sanità pubblica di nuovo al centro della priorità della regione in modo da dare dei servizi efficaci per i cittadini. Bisogna sapere che i cittadini molisani purtroppo pagano lo scotto di tutti questi anni di inattività e di mobilismo e pagano delle tasse e dei ticket che sono i più alti in Italia senza avere dei servizi efficienti. Restiamo in argomento. La proposta avanzata dal comitato Santimotio di trasferire alcuni servizi della fondazione Giovanni Paolo II all'interno dell'ospedale Vietri di Larino può rappresentare una soluzione logica e di buonsenso. A dirlo è Davide Vitiello, membro della segreteria del PD. Il basso molise potrebbe superare il gap attualmente esistente a livello di offerta di servizi sanitari rispetto ad altre aree della regione. Il trasferimento della fondazione a Larino non causerebbe né dispendio di risorse economiche né tantomeno problemi di natura tecnica dal momento che all'interno della struttura attualmente ospitante il centro di alta specializzazione si potrebbero trasferire i servizi esistenti al Cardarelli, la cui sede non è antisismica e non possiede requisiti minimi di sicurezza. Sarà istituito presto l'ente regionale per l'edilizia sociale che sostituirà gli istituti autonomi case popolari, ma criticità sono state espresse dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Patrizia Manzo e Antonio Federico. La maggioranza sostengono non ha intenzione di abbandonare il vecchio schema di nomine, infatti l'amministratore unico viene sostituito da un consiglio di amministrazione composto da tre membri eletti dal consiglio regionale più il presidente nominato con il decreto del presidente Frattura. Ancora una volta si ripresenta la smania della nomina e se in passato esisteva il tanto odiato e criticato sistema Iorio, adesso invece si è palesato nel sistema Frattura. Niro, Patriciello hanno commentato così i grillini. E cambiamo argomento, il primo grande investimento che lo Stato fa per l'agricoltura. Così il senatore Roberto Ruta ha presentato le misure contenute nel decreto Campo Libero, approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri. Vediamo. È una giornata storica per l'agricoltura. Il senatore del PD Roberto Ruta non ha dubbi sulla pubblicazione del decreto Campo Libero, un provvedimento che punta a rilanciare il settore agroalimentare, uno degli unici comparti dell'economia italiana a registrare l'anno scorso il segno più e ad avere appeal sui mercati esteri. Le misure contenute nel decreto, illustrate dal capogruppo del PD in Commissione Agricoltura al Senato, sono differenziate per il mezzogiorno, dove c'è l'agricoltura più anziana d'Europa. Le misure contenute nel provvedimento, approvato venerdì scorso a Palazzo Chigi nell'ultimo Consiglio dei Ministri, prevedono detrazioni per l'affitto dei terreni al 19% per i giovani coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli fino a 35 anni, incentivi all'assunzione di giovani con sgravi fino a un terzo della retribuzione lorda per contratti a tempo indeterminato o determinato per un minimo di tre anni. In quest'ultimo caso si potrà usufruire anche di detrazioni IRAP fino a 3.750 euro che aumenta a 6.750 euro per le donne e i giovani under 35, importo che nel caso delle aziende del sud aumenta a 7.500 euro. Infine sarà concesso un credito di imposta per l'innovazione e lo sviluppo di prodotti e tecnologie al 40% delle spese e fino a 400.000 euro. Cifre analoghe per il credito di imposta per nuove reti di impresa e di produzione alimentare, mentre per l'e-commerce di prodotti agroalimentari il credito di imposta sarà del 40% delle spese e fino a 50.000 euro. Misure concrete a cui hanno lavorato in maniera congiunta non solo il senatore Ruta, ma anche il collega Nicodemo Oliviero, capogruppo del PD nella Commissione Agricoltura alla Camera. Il decreto Campo Libero, secondo le prime stime, dovrebbe favorire la nascita di 25.000 nuovi posti di lavoro, di cui 7.000 nel sommerso. Il provvedimento sarà un'ottima opportunità non solo per le piccole e medie imprese molisane, ma anche per le cooperative che nasceranno attorno alla gamma. In via di completamento l'iter istruttorio indispensabile per l'erogazione di risorse per oltre i 17 milioni di euro derivanti dalla stipula dell'accordo di programma quadro Eventi Atmosferici 2008. A comunicarlo il consigliere delegato alla ricostruzione post-sisma 2002 e alla protezione civile Salvatore Ciocca. Nell'accordo di programma quadro stipulato il 23 maggio scorso, ricorda Ciocca, sono stati inseriti 67 interventi riferibili ad altrettante amministrazioni comunali, tre progetti rispettivamente dei consorsi di bonifica Trinio Biferno, Integrale Erlarinese Piana di Venafro. 11 interventi di cui la provincia di Campobasso è soggetto attuatore, quattro riferibili alla provincia di Isernia. E cambiamo argomento, l'ITR non sarà mai più come un tempo, l'amarezza degli ex dipendenti dopo il sì dei creditori al concordato. Rosati lascerà a casa oltre 300 dipendenti, a questo si aggiunge anche il mancato pagamento della cassa integrazione straordinaria. La nuova OTI non sarà mai l'ITR di una volta. Il piano dell'imprenditore Antonio Rosati pronto a venire in Molise dopo l'occhè dei creditori al concordato presentato dall'ex patrono Antonio Bianchi lascerebbe infatti a casa, almeno in fase di start-up, oltre 600 persone. E con questi numeri certamente non si può parlare di rilancio, ha commentato un ex dipendente ITR. Diciamo che non c'è sicuramente da essere entusiasti del piano OTI perché comunque, come ben sappiamo, parliamo di poche unità che verranno riassorbite nella nuova società. Quindi la speranza è che questa nuova società in poco tempo abbia una grossissima produttività affinché vengano riassorbite sempre più persone. Ovviamente io credo che sia davvero impensabile riassorbire tutte le forze di lavoro in carico prima all'ITR. Quindi insomma io credo che l'ITR di un tempo non avrà più modo di esistere. Sperando che magari Rosati abbia un progetto interessante si può pensare anche a delle cooperative satellitari intorno a quella che è l'azienda OTI. Però insomma diciamo che questo solo il tempo ci dirà cosa accadrà. Per adesso il problema primario è il sostentamento delle famiglie che sono veramente in grosse difficoltà nella quotidianità da cosa mettere in tavola, le bollette e tutto quanto il resto. Gli ex dipendenti dell'ITR infatti da due mesi e mezzo circa non percepiscono alcun sostentamento. La cassa integrazione straordinaria per lungaggini burocratiche ancora non viene erogata. Da due mesi e mezzo circa nessun dipendente percepisce diciamo reddito e quindi questa diventa una situazione sociale molto 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 critica. Ma perché la cassa integrazione non viene erogata? Ma perché comunque ci sono dei tempi tecnici. Con il passaggio dalla cassa integrazione ordinaria alla straordinaria ci sono dei tempi tecnici. Purtroppo non è colpa di nessuno questo lo possiamo dire tranquillamente tranne che insomma del sistema Italia che non funziona ma non è colpa della regione, non è colpa della Fimmolise, non è colpa di nessuno insomma. Preoccupazione è stata espressa da Api e Acem per la chiusura al traffico della strada statale 17 all'altezza del tratto viadotto Callora. Con una nota firma dei presidenti Matilde, Josue e Corrado di Nero l'Api Molise e l'Acem hanno rimarcato l'apprezzione per le gravi ripercussioni e per gli ingenti danni che la chiusura al traffico del tratto di strada arrecherà alle attività produttive già gravamente vessate dalla forte recessione. La copiosa pioggia caduta in basso Molise ha creato numerosi danni e problemi alla circolazione. Molte le zone di termoli in cui si sono riscontrati seri disagi. L'allerta meteo continuerà anche nei prossimi giorni stando a quanto previsto dalla protezione civile. Il cambio di temperatura improvviso ha portato con sé una ricca e corposa perturbazione. Tanta pioggia è caduta nelle scorse ore in basso Molise, in particolare a Termoli, dove si sono riscontrati numerosi disagi. Raffiche di vento oltre 60 km orari, frequenti scariche elettriche, grandine e accumulo di pioggia caduta al suolo tra i 70 e gli 80 mm. Questo lo scenario a cui si sono trovati di fronte i termolesi, quasi increduli. Una pioggia battente ha così mandato in tilt diversi tombini della città, con conseguente paralisi del traffico e allagamento delle strade. Via Palermo, via Raguse e via Udine, ma anche parte della tangenziale tra via del mare e via Pertini, sono state letteralmente invase dall'acqua. Pericolosa inoltre la voragine stradale che si è aperta tra via Trieste e via Polonia, ma anche il lungomare Cristoforo Colombo non è stato risparmiato, con l'acqua che in certi tratti ha raggiunto gli oltre 20 cm di altezza. Allagati anche alcuni lidi sempre sul lungomare e diversi garaggi incontra da Porticone. Per i vigili del fuoco quella del pomeriggio di ieri è stata una giornata di intenso lavoro, con il centralino letteralmente infuocato a causa delle tante telefonate ricevute in poco tempo. Il peggio sempre essere passato in città, ma resta alto l'allarme maltempo, almeno per quanto previsto dalla protezione civile. Altre possibili bombe d'acque sono attese per le prossime ore, con durata e localizzazioni che possono essere variabili e in rapido spostamento verso l'interno del Molise, mentre da metà settimana le temperature torneranno sui livelli tipici stagionali. Intanto a Trivento un fulmine si è abbattuto sul campanile della cattedrale, dalla torre si sono staccate grosse pietre che sono finite sulle abitazioni vicine sulle auto in sosta, ma senza provocare feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Ed ora ci occupiamo della vicenda dei pozzi di cerce maggiore. Nei prossimi giorni l'assemblea pubblica in paese per fare il punto della situazione alla luce delle ultime novità. Sentiamo. Sono ancora accesi i riflettori sui pozzi di cerce maggiore. Nei prossimi giorni un'assemblea pubblica per fare il punto della situazione alla luce delle ultime notizie. Radioattività oltre la deadline sostanze volatili risultate dalle analisi dell'ARPA e la nuova ricerca di idrocarburi da parte della società siciliana la Irminio SRL. Ma non solo, secondo alcune indiscrezioni come già anticipato da Molise TV, la procura avrebbe disposto anche lo scavo nell'area ridosso dei pozzi. Ovviamente non è possibile scavare e aprire quegli enormi serbatoi che chiusi ermeticamente diventerebbero una bomba d'orologeria. Si sta anche valutando l'ipotesi di una bonifica della zona, ovvero dell'area dove sono state riscontrate soglie a nomele di radioattività. Una bonifica dell'area in realtà è stata già fatta l'indomani della cessazione dell'estrazione petrolifera. I lavori sono stati all'epoca eseguiti da un'azienda di cerce maggiore affidati dalla stessa Montedison. Oggi l'ARPA rileva una situazione non altamente preoccupante ma diversa da quella rilevata dall'allora PMIP che da controlli effettuati a Capoiaccio, nello specifico alle acque di estrazione, non c'era materiale inquinante. Oggi lo spettro di una contaminazione si fa vivo e i timori sono quelli di ieri. La collettività dunque continua ancora a chiedere verità e giustizia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto del Presidente del Consiglio che esclude per i prossimi due anni dal patto di stabilità interno i comuni che hanno in progetto di costruire nuove scuole e in Molise e Isernia fa il pieno. Si parte dagli studenti in modo particolare dalle scuole che saranno rese più sicure, così come richiesto da anni dopo che con il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia dopo il terremoto del 2002 è suonato l'allarme sulla scarsa sicurezza degli istituti. Ora si cambia registro. Venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Sblocca Italia. Dal 1 luglio ripartiranno i cantieri di edilizia scolastica rimasti fermi per molti anni a causa di lungaggini burocratiche o perché le casse comunali erano rimaste a secco. Ora Palazzo Chigi stanzia più di un miliardo di euro per 21.000 edifici scolastici sparsi in tutta la penisola. I primi interventi riguarderanno quasi 18.000 istituti per un costo di circa 450 milioni di euro, mentre altri 3.000 istituti verranno messi in sicurezza con rimozioni dell'amianto e delle barriere architettoniche per un costo complessivo di 400 milioni di euro. Inoltre partiranno i cantieri per la costruzione di 389 nuove scuole per un costo complessivo di 244 milioni di euro. Tanti gli interventi per rimettere in sicurezza gli edifici soprattutto al centro-sud. In Molise in particolare è Isernia a recitare la parte del Leone. Lì si concentreranno i lavori finanziati dal governo. A 30 anni esatti dal sisma del 1984 i volontari dei vigili del fuoco in congedo sono scesi in piazza a Isernia per spiegare ai cittadini cosa fare prima, durante e dopo un terremoto. Chi c'era non può dimenticare il terremoto del 7 maggio 1984, una forte scossa lunga e violenta che Isernia provocò lesioni nella parte vecchia della città. Mancò la luce e le comunicazioni telefoniche si interruppero. Fortunatamente nessuno perse la vita, soltanto qualche ferita venne riportata dagli abitanti esattamente 30 anni fa. Così quest'anno ricorre l'anniversario di quel sisma. Hanno ricordato i volontari della protezione civile e vigili del fuoco in congedo nel fine settimana durante la campagna di sensibilizzazione terremoto io non rischio. E per non rischiare, per evitare il ripetersi di scene passate come quelle dell'Aquila per esempio, tutta la cittadinanza deve sapere cosa fare prima, durante e dopo il terremoto. Creare un ambiente più sicuro a casa nostra in modo tale da eventualmente ci fosse una scossa di terremoto comportarsi nel modo più corretto possibile. Quindi durante una scossa magari restare il più possibile tranquilli per quello che uno possa riuscire a resistere su questo fatto e poi magari trovare i punti sicuri a casa propria che possono essere i muri portanti, le travi portanti e le colonne portanti. Mettersi sotto un tavolo, quindi andare a trovare questi punti per poi rimanere lì fino alla fine della scossa per poi portarsi all'esterno e quindi recarsi nelle aree predisposte lì dove verranno poi i volontari di protezione civile, le forze dell'ordine o gli addetti comunali a poter dare delle notizie su cosa fare successivamente dopo. Occorre infine rivolgersi a un tecnico esperto, all'ufficio tecnico del comune se si ha qualche dubbio sulla sicurezza della propria casa. Facciamo l'esempio di Sernia, siamo in zona sismica 1, cioè la più alta dell'alto rischio sismico per cui andare a sapere che casa propria è costruita in un certo modo, su un certo terreno è una questione buona nel conoscere, quindi saranno i tecnici a fare delle valutazioni e quindi a dare al cittadino la migliore informazione possibile. Era prevista per oggi ma è slettata domani la proclamazione dei 32 eletti al comune di Campobasso, intanto la commissione elettorale è ancora riunita al primo piano di Palazzo San Giorgio per effettuare i controlli dei verbali. A poco meno di un mese dall'avvio della campagna abieticola 2014, la quarta asta dello zuccherificio è andata a deserta e tanti sono gli interrogativi ancora irrisolti, con la questione che domani mattina sarà discussa in seduta monotematica nel Consiglio regionale. Dopo l'approvazione del bilancio 2013, lo scorso 30 maggio, che ha portato alle dimissioni di Alfieri e Toma, la questione zuccherificio in questo mese è parsa a cadere nel dimenticatoio. Le novità principali hanno riguardato finora la manutenzione dell'azienda che si appresta a vivere la campagna abieticola 2014 con tanti dubbi e poche certezze. Infatti nonostante l'incertezza della governance dello zuccherificio del Molise, prosegue seppur a rilento il ciclo di assunzione dei cosiddetti lavoratori avventizi, tecnici specializzati che devono prestare la propria opera per condurre in porto gli impianti in vista della stagione abieticola. Altri 12 sono stati richiamati in servizio dalla New Co, che ora dovrà sciogliere soltanto chi saranno i manager a cui affidare la gestione dello zuccherificio SRL, visto che anche Baranello è decaduto come procuratore speciale in seguito alle dimissioni da amministratore delegato di Alfieri. Così per quanto riguarda la questione assunzione sono 43 gli avventizi che finora sono stati chiamati per la prossima campagna, ma sono ancora tante, forse troppe, le questioni da risolvere. Ed è per questo che è stata chiesta e ottenuta per domani la convocazione di un consiglio regionale monotematico. Intanto finora l'unica certezza è che lo stabilimento saccarifero Basso Molisano non interessa a nessuno. Infatti anche la quarta asta che ha visto l'ennesimo ribasso della pretesa economica è andata deserta. Si era partiti da 27 milioni di euro, successivamente si è scesi fino a 20, ma anche con questo sconto di compratori alla porta finora non se ne sono visti. A Contrada Pantano Basso regna sovrana dunque l'incertezza sul futuro. A poche settimane dalla campagna abieticola non resta che attendere il consiglio di domani con la speranza che qualcosa si muova. Il prefetto di Campobasso Francesco Paolo Di Menna ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Pietracatella avviandone la procedura per lo scioglimento e ha nominato commissario il vice prefetto Maria Nicolina Testa. Il provvedimento si è reso necessario dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali. Il Molise conferma la sua solidarietà a 20 le tonnellate di prodotti alimentari che sono stati raccolti durante l'ultima giornata dedicata alla colletta alimentare. A Campobasso hanno operato 18 associazioni che hanno raccolto poco meno di 11 tonnellate di prodotti a cui si aggiungono le 9 tonnellate raccolti a termoli. Le istituzioni molisane, ha commentato Michele Petraroia, prendano esempio dalla mobilitazione dei volontari e facciano quadrato per accelerare l'attuazione della nuova legge quadro regionale sulle politiche sociali per il contrasto alla povertà e spingano il governo a sbloccare i finanziamenti della Social Card per le famiglie povere. E cambiamo argomento. Quando è stata inaugurata l'ex gile di Campobasso la mostra Habitat Urban di Leonardo Pappone, l'esposizione segna il ritorno in Molise dell'artista che ora punta a conquistare New York. Dal macrocosmo al microcosmo, Leopap guarda prima la città dall'alto come se arrivasse in volo, planando a volo d'uccello verso i palazzi all'orizzonte e scende poi tra le strade nel loro fermento. Così il professore Lorenzo Canova ha presentato Habitat Urban, la mostra di Leonardo Pappone inaugurata ieri pomeriggio all'ex gile di Campobasso. L'artista, tornato in Molise dopo i successi a Roma e Bologna, punta ora a conquistare gli Stati Uniti. Questa mostra è ispirata sempre a un discorso urbano, a una New York sia vera che immaginaria, dove io spero di ritornare quanto prima. A queste città che hanno oramai un linguaggio non solo di Facebook o di Twitter, ma che hanno ancora un linguaggio di graffiti, di segni quasi infantili, ma che hanno un bisogno di linguaggio moderno. Insomma, quindi questo è quasi mettere insieme queste visioni a distanza di città con quello che poi c'è nella città nella vita di tutti i giorni. E questo vuole essere per me un messaggio e anche una piattaforma di partenza. Spero che la mostra piaccia. E rivolgo, visto che ci siete anche voi, un appello a Bill de Blasio. Caro Bill, se segui queste trasmissioni o sei a modo di vederci, io e il buongermano abbiamo intenzione di organizzare una mostra lì a New York. Un altro evento culturale che riempie di contenuti l'ex Gil, spesso definito un contenitore senza contenuti dall'attuale governo regionale. Parliamo di Leonardo Pappone che ha fatto una mostra a Roma, che ha avuto una partecipazione straordinaria, adesso ha portato le sue opere qui. Siamo stati onorati e lieti di accoglierle, così come siamo contenti di avere tutte le opere dei ragazzi del liceo artistico al piano superiore. È questo che ci piace pensare delle opere pubbliche, renderle vive, partecipate. Infatti, contestualmente, l'ex Gil ha ospitato anche la mostra con le opere dei ragazzi del liceo artistico Manzù di Campobasso. Apriamo la pagina sportiva, la pioggia battente non ha affermato lo svolgimento della terza edizione del Memorial Scorrano al campo sportivo di Mirabello. In campo, i suoi compagni di squadra della stagione 83-84 che hanno affrontato una selezione di ex calciatori molisani, oltre al Campobasso attuale, che ha sfidato una rappresentativa di calciatori della regione. La pioggia battente non ha spento l'entusiasmo del Campobasso di ieri, anni 1983-84, e quello dei record di oggi che hanno sfidato altrettante rappresentative di calciatori molisani del passato e in attività. Tutti per un unico e grande trofeo che ha un nome e un cognome stampati a caratteri cubitali nella memoria collettiva. Michele Scorrano, indimenticato e indimenticabile capitano russo-blu di mille battaglie, capace di caricare e caricarsi in spalle i compagni nelle partite che contavano, per vincerle o almeno per uscire a testa alta dopo aver lottato sempre con il coltello tra i denti. Per quanto riguarda la società del Campobasso, già ho detto in un'altra circostanza che è formata da dirigenti oculati e seri. Bisognerebbe che si avvicinasse a questa società anche altri imprenditori che magari hanno la possibilità di mettere non grandi cifre ma un appoggio economico che permetta al Campobasso di progettare, di studiare una squadra che non dico che debba vincere il campionato, però provare a essere competitiva in un campionato che molto probabilmente sarà difficile e competitivo. A livello tecnico invece è giusto puntare sui giovani oppure è giusto anche far arrivare in città qualche nome di richiamo per innalzare il valore della squadra? Ma per quanto riguarda i nomi di richiamo, se non sono under lì il problema è complicato perché chi scende dalla B e dalla C1 poi chiede un ingaggio che molto probabilmente di questi tempi il Campobasso non può permettersi, quindi bisogna scegliere oculatamente gli under che siano ragazzi possibilmente di valore. Per la cronaca il Campobasso dei record guidato da mister Farina è stato sconfitto per 2 a 1 dalla rappresentativa di giocatori molisani che è andato in rete con Lombardi e Sivilla che quest'anno ha vinto la Serie D con l'Ancuna, mentre il Rosso-Blu hanno accorciato con Corradino. Nell'altro match il Lupo 83-84 ha superato per 3 a 1 le vecchie glorie molisane grazie alla doppietta di Dottavio e alla rete di Dadderio, di Silva invece il gol della bandiera per la rappresentativa molisana. Tra le due partite il momento istituzionale ha suscitato un brivido di commozione tra i presenti quando la figlia di Michele e Mirella ha ringraziato tutti e i tifosi hanno invocato a gran voce il nome di Scorrano, come fanno ogni domenica dalla curva a lui dedicata, sperando che lo sia l'intero stadio di Contrada Selvapiana. Qui il sindaco Antonio Battista ha rassicurato tutti, promettendo anche l'avvio quanto prima dei lavori necessari per ridare lustro all'impianto e che saranno finanziati dalla regione che ha già assicurato il suo impegno. Poi i ricordi toccanti del sindaco di Mirabello, dove il capitano chiuse la carriera, Luciano Di Biase, e quello di Ururi, Antonio Plescia, in cui Michele nacque e inizia a scrivere la storia con l'indelebile inchiostro rosso-blu. Kevin Magri di Campobasso, 19 anni ancora da compiere, ha vinto il titolo primavera da capitano del Chievo Verona. Il ragazzo ancora ha un anno di contratto con la società del presidente Campedelli, ma già diverse squadre hanno chiesto informazioni su di lui, tanto che già nel gennaio scorso poteva passare alla Juventus e non è difficile immaginare che Magri nei prossimi mesi possa prodare in un grande club e poi essere ceduto in prestito anche in Serie B per continuare la sua crescita. L'Isernia Calcio A5 ha conquistato la Serie B battendo la Nissa Futsal di Caltanissetta nella finale di ritorno dei play-off al Palafraraccio. Ai nostri microfoni tutta la gioia del team manager Mario Ionata. Vediamo. Per la prima volta una squadra molisana sale di categoria vincendo gli spareggi interregionali. Il miracolo è dell'Isernia Calcio A5 che ha completato l'opera battendo per 2-0 la Nissa Futsal di Caltanissetta nella finale di ritorno al Palafraraccio. Siamo stati costruiti per vincere il campionato, abbiamo dato tutto, non ci siamo riusciti perché davanti a noi abbiamo trovato una signora squadra come la Wynn, abbiamo perso il campionato per una partita, ci siamo rimessi sotto in due mesi, abbiamo lavorato tantissimo, io e mio fratello credevamo tantissimo in questi play-off. La squadra all'inizio era titubante, ma è normale, dopo aver perso un campionato così erano tutti con la testa bassa e con il morale sotto i tacchi. Piano piano in questa autogestione ci hanno creduto un po' tutti, abbiamo superato il giro nel punteggio pieno, siamo andati in Sicilia, abbiamo pareggiato e oggi c'è stata una festa incredibile, un palasport pieno per una gara di C1 di Calcio A5, io credo non si sia mai visto qui a Isernia. È stato tutto bellissimo davvero. Per il prossimo anno l'Isernia punterà recita un ruolo importante nella Serie B, rinunciando chiaramente a fare la comparsa. Noi come Isernia Calcio A5 abbiamo già fatto la Serie B nel 2005 e nel 2006 e l'abbiamo fatta purtroppo a Miranda perché questo impianto non è omologato. Oggi c'erano qui, e ringrazio il sindaco e l'assessore, il sindaco brasilio e l'assessore Galasso, volevamo fargli capire che cos'è il Calcio A5 in questa città. Devo dire che mi hanno ringraziato per l'invito e hanno capito che cos'è. Abbiamo già presentato un progetto al palazzetto per ampliare questo palazzetto. Speriamo che ci consentano di fare questo miracolo. E questo era il nostro ultimo servizio sportivo. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per martedì 17 giugno. Una circolazione di bassa pressione in azione sul Mediterraneo tende a coinvolgere ancora il Molise determinando nella giornata di martedì condizioni di spiccata variabilità. Ne conseguono temporanee schiarite alternate a nuvolosità irregolare con acquazzoni a carattere sparso. I venti saranno in rinforzo dai quadranti meridionali con mari da poco mossi a mossi. Le temperature si abbasseranno ulteriormente. Vediamole nel dettaglio. Campo basso minima 14, massima 21 gradi. Isernia minima 17, massima 25 gradi. Termoli minima 20, massima 26 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero.